Il 67esimo festival di Sardegno! Eccola qui! E' l'attività! E' l'attività! Che non passa mai, che lentamente... Scusate, non lo so che te ne spiace, ho fatto tardi e mi... Sei giustificata! E lo dì sei giustificata! Quindi ti abbiamo aspettato tanto, loro ti hanno aspettato tanto, ma nel frattempo abbiamo avuto modo anche di acquistare il tuo cd, perché la libreria Mondatore qui è pronta lo tuo cd, e loro, giustamente la prima di fa, hanno avuto più tempo di poter acquistare il tuo cd. Allora, innanzitutto un grande piacere per me, innanzitutto vista la tua giovane età, perché un'artista giovane è sempre una famosa, vi ho parlato tanto di questo Sanremo, un po' che ha ruttamato, no? Non è giusto dirlo, perché ovviamente ci sono dei grandi artisti, però è una grande soddisfazione che una ragazza ha 17 anni, giusto? 26! 26, figurati! Ho messo pure un anno anche tra poco! Arrivi veramente a Sanremo e poi si porti dietro questo grande soddisfatto! Amore, 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 andiamo via! Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via! Amore, 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 amore mio! Ma ogni giorno mi svegli e tu sei già andato via ancora! Amore, amore!